Una partita contro il Frosinone che deve dare una svolta a questa stagione iniziata male? Lo sappiamo, dobbiamo subito cercare di fare risultati perché ultimamente non siamo stati in forma, abbiamo fatto abbastanza male. Cercheremo di fare bene al Frosinone per rilanciarsi anche a livello del morale. Secondo te questa pausa è servita per fare chiarezza all'interno della squadra e credo anche per finalizzare la preparazione di alcuni di voi? Secondo me è servita, anche il prof mi ha detto che hanno lavorato molto bene fisicamente per rimettersi in forma, hanno lavorato molto bene questi giorni e poi vediamo il risultato sabato. Il morale com'è? Il morale non posso dirti, questi dieci giorni non sono stato qui però vedo comunque qualche sorriso, ci vuole il sorriso, ci vuole sempre, perché il calcio è allegria e bisogna avere il sorriso. Senti, tu giocherai terzino al 99%? Quello non posso dire, finché non mi dice il mister. Ti dico, sembra, pare che tu possa giocare terzino. Vabbè, diciamo sembra, sembra perché il mister ha provato lì oggi, stamattina. Ho visto che ti ha provato. Sì. Nell'eventualità che ti facessi giocare terzino. Guarda, io sai cosa ti rispondi, io ti dico, anche se non è il mio ruolo, mi do da fare, poi sicuramente sbaglierò qualcosa, farò male, alla fine non posso, però mi impegno. Guarda, 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 guarda.